Musica Madonna, febbraio Neanche un San Valentino? Ah, mannaia Eh beh Niente zambi però Strano E chi lo sa Per te no di sicuro, vero? Ah, ci siamo scordati davvero l'ora buia, quindi Ah, neanche di Aegis ci ricordiamo, schiga Non me la ricorda Ah, quindi adesso un dormitore tutti gli effetti, con più gente Eh beh, ormai lui ha finito Wow, così finisce Allora, Aegis sicuramente si ricorda Addirittura, poverina Ah, non c'era un po' di più C'era un po' di più Ma, se non c'era un po' di più Ma, se non c'è E se non c'è Il mio è un po' di più Ah, non c'è Addirittura Proprio zero Neanche quello Madonna mia Che cosa orribile Cioè sono bastati due mesi Per dimenticare tutto Mi sembra di conoscerla Corriamo I giorni trascorrono serenamente Senza incidenti Però le persone ce le ho ancora Scusami Oh addirittura Barista Ho capito Questo è l'ultimo giorno Questo è l'ultimo giorno Il giorno dei saluti Il diploma alle porte È uno spreco di tempo Fare la corte a chi se ne andrà Anche l'anno prossimo sarà dura Tutte le ragazze migliori Non resteranno singole a lungo Meglio iniziare ad organizzarsi Porca troia No ma scusami Eh quello è vero Eh quello è vero Addirittura L'anno prossimo giorno dei saluti Ma vai Dai fai la persona serie Vai No va a cagare Dai Vai da tua sorella Passare l'anno fa schifo Odio dovermi abituare Alle nuove routine Wow star con In che modo D'accordo Ah vai tranquilla Tetto Che novità Dimmi Ma va Vorrei che mi accompagnassi Mi basta che sei lì Se è quello che ci vuole Però qua facciamo delle promesse Che non possiamo mantenere Certo Se posso Non ti preoccupare No Anche perché in realtà Tutto questo Vanifica un po' Quello che è appena successo Come mai siamo amici E allora però Adesso mi chiede di incontrare Sua madre A sto punto Non mettere il pezzo del dubbio O non mettere questi dialoghi Per niente E se ti dicevo di sì Me l'hai già dato Non ti preoccupare Voi sarete al prossimo anno E se non ti preoccupare E se non ti preoccupare Però davvero Vanifica tutto quello che hanno detto prima Ma come mai siamo amici Però forse La butto lì Forse in realtà Loro hanno dei dubbi fra di loro Ma non con noi Sanno benissimo che siamo amici Sanno che abbiamo fatto qualcosa di importante per loro Perché siamo noi Ma lei, Junpei, Sanada Persino Amada Magari anche Shinjiro a questo punto Non hanno un collegamento fra di loro Il loro legame eravamo noi E questo legame è rimasto ma con i singoli Perché noi abbiamo fatto questi legami Fra di loro no E' un po' strano in realtà E beh Però sembra un discorso come se fossimo fidanzati Vai corri Ti va avanti eh Vai tranquilla Amore mio Ho deciso che frequenterò un corso di laurea da quattro anni Forse nella vita serve davvero una buona istruzione Ma non mi sono certo arresa Lavorerò alla moda Anche a costa di accettare un lavoro part time Brava Segui i tuoi sogni Amore Non ancora E che posto è? Senza di me? Vengo con te No Dove? All'asilo? E che c'è da ridere Mi piace che lei segua ancora il suo sogno Vai pure Non ti preoccupare Ma certo Dai andiamo Vorrei che restassi Buona fortuna Avrei voluto una scena di San Valentino però eh E beh Ma ce la farai Anche io Anche io Anche io Porca di quella puttana Che dolo vorrei Una parte di me vorrebbe vedere cosa succede se hai più ragazze però Aspetta Aspetta Che ti farò innamorare di me come se fosse la prima volta Dio mio Sì lo diceva Sanada Ti mangerò con calma insomma Stai parlando tu eh Non mi dici ti amo Niente Qua c'è La sala d'agenti Ma l'infermeria invece? Chissà cosa serviva davvero la medicina del professore Edogawa Eh bella domanda Credo di essere riuscito a concentrarmi meglio ogni volta che ho studiato in biblioteca Dio mio c'è C'è qualcosa da dire su ogni posto Siamo alla fine Siamo alla fine Dio mio Asciura Sei praticamente un cliente abituale vero? Oggi cosa ti serve? Eh? Stai bene? Sei pallido come un cencio? Domani c'è la grande cerimonia Forse dovresti tornare a casa a riposare? Ovviamente Bebe No Qui dove io e Bebe ci incontravamo per il club di moda Eravamo solo in due Ma il tempo passava assieme E' stato molto soddisfacente Ricordo di essere venuto qui nell'aula d'arte Per le attività del club di arte Ho passato molto tempo a dipingere con i raga Questo posto è pieno di ricordi Ma non abbastanza Il tipo al telefono Ehi Cosa è successo alle persone con la sindrome apatica? Fino a poco tempo fa sembra che ce l'avessero tutti Quasi come se stesse per finire il mondo Oh aspetta Devo messaggiare con i miei amici Me lo dirai dopo L'albero è ancora qui ovviamente Qui cresce il giovane albero di Kaki Significa molto per la coppia di anziani nella libreria Ovviamente manca fuka Al cancello chi c'è? Oh Amada Ciao Eh beh immagino Addirittura si è dimenticato di Aragaki Madonna mia Madonna addirittura Eh immagino Cazzo Immagino si Non ti preoccupare Non ti preoccupare E due Signora di mezza età Non so chi sia Ma ci parlerà del nostro amico scomparso Fammi vedere se la volpe dice qualcosa Cos'era quella strana voce che ho appena sentito nella testa? Forse l'ho solo immaginata Addirittura Paolonia però Chissà se la porta C'è ancora al rimasuglio Ah si ricorda di noi eh? Certo che mi ricordo Certo dimmi pure Dimmi Volentieri Come potrei dimenticarlo Già Le adora ancora immagino È davvero una brava bambina Che cosa sia Mi Avicino Mi Mi Ha Mi 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 Ma dai Eh perché ora non ce l'hai vicino Mi dispiace per lui però Cavolo Ma la vedrai ogni tanto no Eh beh Mi immagino Oh no Oh no Porca troia no Si sta incazzando perché vuole sposarci Dai tiralo fuori dillo Orca troia addirittura Madonna mia che scenata Fra calmati Che esagerazione Madonna mia Signora Ha visto che pazzo Quell'uomo Oh il bambino col gatto L'unica volta che la madre ha accettato il gatto è scomparso Ma porca dire Ah la rivista di gourmet Sappiamo 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 i piatti segreti Eh lui era bravo col cibo Ebbè C'è quel tipo che veniva sempre Che anche lui è un intenditore culinario Ed è bellissimo che queste due cose combacino fra di loro Ebbè Ebbè Ma donna mia Dio mio signora Certo chiedi pure Sì Sono io Il vero regurme È il mio migliore amico No Intendo che è grazie a me se ora è quello che è Chissà Magari un giorno L'intervista prosegue Ho mangiato qui molte volte Il salpore misterioso dei loro hamburgers Crea stranamente dipendenza Credo sia quello il problema Ehi Ciao Eh è passato un bel po' di tempo Sì Eppure sono pallido come la morte Beh è passato un bel po' di tempo dall'ultima volta Beh sì Dimmi Oh addirittura Eh beh Sarebbe anche l'ora sì Buona idea Spero che vada benissimo allora Ma tanto ci vuole Ma scusami Io l'ho detto per tutto il confidenza Sta sta stronzata Scusami Che cazzo di senso ha Prendilo Spostalo Dall'altra parte Non ci voleva un genio Vabbè Lasciando perdere la collina Ma bastava spostarlo poco più in là del giardino Ma scusami Oh questa è una cosa bella però Questa è una bella cosa Immagino È un bel ricordo Buca Ma dai Bello Sono molto cresciuto Quello è vero Anche a me Infatti mi piacevano come confident loro C'è un confident terziario che voglio vedere come sta Il tassista Eccolo Ho pensato di diventare seguace Nixama per vedere se riuscissi a riavere la mia famiglia Ma non sarebbe stato di alcun aiuto È stata colpa mia per aver tenuto questo lavoro trascurandoli Sto pensando di incontrare mia moglie Per cercare di ricostruire le cose con lei Ma quindi la gente si ricorda di Nix? Non c'è più il gatto Il gatto della signora Che era quello che abbiamo visto con Aegis Non c'è più Era lui allora Vediamo La signora di mezza età Sì sono io La signora Kamiki Ma dai A parte che non sembra così di mezza età però Eh beh Ma certo certo Parlerà del libro È il suo compleanno Beh Maginavo Eh a volte salta una generazione Questi tipi di malattie purtroppo Che non era colpa sua? Oh Dio mio Signora Quando morirò io lo saluterò Che non mi piace Che non mi piace Che non mi piace Che non mi piace Viverà pieno la sua vita Quando lo rivedrò Già La conclusa Ho io il taccuino Ho spiegato come ho ricevuto il taccuino Da Kamiki e che conosco l'intera storia Se possiamo io glielo do il taccuino Grazie Grazie Già È l'unica cosa sicura purtroppo Dio mio quanto è profonda sta roba Wow Peculiare comunque La madre dei Kamiki si è andata senza voltarsi Peculiare che in questa zona abbiamo due genitori Entrambi hanno perso i figli Perché uno è morto e l'altra se n'è andata Ma una adesso ha ottenuto un obiettivo nella vita O un motivo per andare avanti L'altro invece L'unico obiettivo era fare in modo che noi non la sposassimo Non c'è problema per quello Non ti preoccupare La signora Eccola appunto Sono tutti fuori Mi spiace Oggi siamo chiusi Oh aspetta Sei quel ragazzo strano che viene qui spesso Sei un tipo strano se ti interessa così tanto l'antiquariato alla tua età Soprattutto se prendi sempre Cos'era? Scusa la mia memoria non è ottima ultimamente Torno a trovarci domani Cercherò di ricordarmelo Sono mai venuto io in un gameplay qua alla fine? Sentivo il coraggio messo alla prova ogni volta che ho cantato da solo al karaoke Quindi ci siamo venuti E qui non c'è nulla Oh sei tu La scuola è già finita E' da tempo che non parlavamo così Scusa Non ricordo come sono andate le cose Beh in ogni caso I mesi passarono in fretta Fai in modo di goderti la scuola Così non avere rimpianti Ho lavorato part time qui molte volte La gente al caffè ora si fida di me Ho persino ottenuto un aumento Ehi Sai qualcosa di mutazzo? Sì sono io E che gli hai detto? Dai sentiamo Dai Fammi sentire Beh si Tu l'hai scritto idiota Oh addirittura Chi è strega Grazie Chi lo sa Lo spero Ma non credo Beh dipende in cosa credi Però si Quando magari sarò maggiorenne Certo Chissà dove Ehi la come va? Oh ciao sei tu Perché quella riemesta? Vieni qui spesso vero? Non dovresti fare troppo affidamento sulle medicine sai? Sei ancora giovane Dovresti rafforzarti facendo esercizio Mangiando bene Facendo i compiti Non ossessionarti con la salute Quello è il compito dei medici Oh gatti Gatto familiare Mi sa che è quello che abbiamo curato vero? Ehi il tipo dei computer Ma quanti gatti? Oh ehi Non mi aspettavo di vederti in un luogo come non fosse il club Ultimamente si parla molto di set e incidenti misteriosi su internet Ma sono certo che chiunque sappia cosa succede davvero non sta su internet Tra l'altro anche se ci fosse una spiegazione non so se potrei fidarmi Cosa è vero e cosa è falso Chi non sa distinguere la differenza non sopravviverà Ehi Koromaru E il collare Sembra preoccupato per me Devo avere una brutta cera Riposerò più tardi non ti preoccupare Bravo capo bravo L'espressione di Koromaru si è illuminata Sembra sollevato Ma tipo io se adesso torno qua C'è bel tempo potrei farmi una passeggiata in città Continuo ad esplorare esatto Quindi quando torneremo al dormitorio sarà la fine della nostra giornata Ci mancano tutti quanti questi a scuola Ehi come va? Che ti ridi Lo sa ora Ma dai Che bello che se ne è accorto comunque Bello che l'amico di infanzia non se la prende però Vai tranquillo Bravo Meno male che lo sai Vuoi fare la riabilitazione in modo più fisso vero? Ok Oh sono contento Quello è quello che ti dicevo anch'io Idiota Già Già In modo molto stupido tra l'altro Già Meno male che ti rendi conto per davvero Anzi dovevi essere tu l'esempio giusto per tuo nipote Eh lo so Già 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 Meno male tra l'altro Lo so Lo so Non c'è bisogno di sdebitarti L'importante è che tu stia meglio Sono consigli proprio per quello Grazie Ciao Utagiri Eh sì È proprio quello vero Dimmi Dimmi Davvero? Se non ti interessa più E non te la senti più È giusto Eh beh E chi lo sa Ne dubito Già Già E tu vuoi cambiare le cose vero? E la tua risposta è stata? Già Già Ovvero Vuoi diventare un insegnante Perciò Perciò Bravo Già No Assolutamente Non lo farò Ti auguro di diventare quello che speri Grazie a te Di nulla Utagiri Andiamo da Maya Potrei provare a parlarle Ma certo Mi raccoglie Mi raccoglie Mi raccoglie Da Mi raccoglie E la mia Immagino Ha un gioco online Chissà chi Quando ha conosciuto suo marito immagino Devo tornare al lavoro Le insegnanti sembrano occupate Dovrei togliermi di mezzo Ma in realtà è esatto E' il telefono L'abbiamo salvato No i telefoni Lo posso tenere Nella Tascoccia quindi No no l'ha fatta Non ho capito E' il telefono Non ho capito Non ho capito Ma cosa Questo camera Cosa cosa Ma 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 Si Grazie Ma 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 Questa Corra! ma no tranquilla muoio io tra poco ciao maia e vabbè no 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 ma 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 si 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 mi farebbe piacere poverina maia chi ci manca a parte Mitsuro Junpei e il prof Ciro e Akiko andiamo con Kirijo vai tranquilla sul tetto o nella sala del consiglio certo andiamo ovvio andiamo ma è vero che lei che se ne va è vero ebbè 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 a proposito del dormitorio noi magari non abbiamo un incontro con Shinji per ovvie ragioni ma magari la sua stanza qualcosa ebbè 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 ovviamente tutto il resto c'è da dire che questa lezione noi non l'abbiamo minimamente ascoltata siamo entrati da soli nella luna e abbiamo sacrificato la nostra vita ma dai ebbè io con un chopper vai pure vai pure dai oh star sun eh lo so me lo state dicendo tutti lo so avete ragione no no parliamolo invece dimmi pure immagino che invece sarà importante ma si si vergognava dai dimmi quale mi chiedo di chi stia parlando eh quello è assolutamente vero sono d'accordo ed ero d'accordo anche con lui però per il decoro della gente diciamo che insegnante studente adulto e minorenne forse un attimo di attenzione ma quello no assolutamente quello assolutamente no mi sembra giusto un altro un altro un altro un altro un altro non è un altro un altro sempre di nulla non è benvenuto ma è già qualcosa Te lo auguro L'anno prossimo Cambieranno tante cose no? Ehi, consiglio studentesco è una roba solo di tre anni alla fine Sono piccole cose che ti faranno crescere ovviamente Sarebbe bello, ma non succederà Anche perché Ciro, tu hai un compito l'anno prossimo Dovrei accogliere altri ragazzi da un'altra scuola Junpei, amico mio Come va? No Non oggi, mi dispiace Ma dai Certo Secondo me dovresti giocare a baseball Sì Dopo quello che ho detto io prima Credo si sia un attimo Cambiata di nuovo l'idea Ma dai Meno male che Di lei si ricorda Invece no Cacchio Si è dimenticato di lei Ma c'è Junpei c'è Cazzo sì Cazzo sì Effettivamente sì Questa è terribile come cosa Mi spiace per Fuca però Cavolo Eh beh Cosa ti porta qui? Volevi salutare questo posto Prima di andartene? Eh esatto Vivendo giorno per giorno Ti capisco Eh però Ti sei allenato mica male Ne dubito Già Ci siamo molto divertiti I casi della vita Già Lo sarai sempre Già Me lo Me lo chiedo davvero Se succederà Sì Cazzo Meno male che io ho parlato ancora Perché ci speravo Già Non si ricorda neanche Come è morto Che roba triste Lei Sappiamo tutti e due Di cosa vuole parlarmi Vero? Mi dica pure Una lettera Già Mi dispiace un sacco Per il suo futuro Cioè È nobilissimo Quello che ha fatto Ma è uno spreco Purtroppo Ah beh certo Giustamente No Ho ricevuto una lettera Da Yase Sarà meglio Leggerla Hai fatto bene La calligrafia ferma Di Yase Riempie l'intera pagina Riesco quasi a vedere Il suo volto Minchia Addirittura Ok Vediamo Giustamente Perché sei bravo Si capisce Si capisce Che Yase Era di ottimo umore Quando l'ha scritta Addirittura Vediamo Come Ma dai Vabbè Ci sta come cosa Mi chiede Ma È un'altra parte È una Una Ma È un'altra parte È un'altra parte E Oltre a Oltre a L'ora È un'altra parte Oltre a Oltre a Oltre a Oltre a Oltre a Ma Ebbè Ebbè certo Giustamente Minchia Portato tutti al 99 Meglio allenato di così Non è strano E affetto reciproco Chi lo sa Chi lo sa Ebbè Eh esatto Mi stavo preoccupando per loro La verità è che purtroppo Nonostante tutto Lui dice di trovarsi bene Lui è rinunciato A una sua grande passione Ha rinunciato A un obiettivo Ha rinunciato comunque A qualcosa in cui Oggettivamente era bravo Per una cosa Un bene superiore Assolutamente Però è veramente Un peccato Eh già La lettera termina qui Sai che davvero mi spiace Un sacco per Fuka Perché sicuramente Ci avrebbe parlato di Natsuki Che adesso Le scrive Le dice come sta E tutto il resto E tutto